Cronaca sanità politica estate 2012, questi i temi principali oggi, venerdì 22 giugno 2012 nell'edizione delle 13.45 di Rete 3 News. In apertura, come detto, la cronaca sfiorata la tragedia questa mattina a Praia Mare. I carabinieri della locale stazione hanno infatti soccorso un uomo di 74 anni, Egidio Greco, il nome dell'anziano che da circa tre giorni non rispondeva ai ripetuti richiami dei vicini di casa. Pertanto, sul loro richiesta sono intervenute le forze dell'ordine. Saliti al secondo piano del condominio, Madonna della Crotta, al Civico 22 di Via Verga, sono passati da una finestra posta sul retro dell'abitazione. Entrati hanno ritrovato l'uomo a terra, privo di sensi, e dopo averlo rianimato l'hanno consegnato alle cure dei sanitari del 118, diretti allo SPOC di Cetraro. L'uomo è ora in prognosi riservata, per quanto si apprende a provocarne il male un probabile ictus. E ora andiamo a Praia Mare per parlare di sanità. Un nuovo decreto del commissario Scopelliti dispone uno studio di fattibilità del CAPT, ma la riconversione è partita tre mesi fa. I dettagli. Uno studio di fattibilità per il CAPT di Praia Mare entro il 30 giugno. È il commissario della Sanità Calabrese, nonché governatore della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, a ordinarlo al direttore dell'ASP di Cosenza Gianfranco Scarpelli. Il tutto con il decreto 90 del 18 giugno 2012 a firma Scopelliti dal titolo eloquente, disattivazione presidio ospedaliero di Praia Mare. Anche questo atto del complessivo riordino della Sanità Calabrese conferma i dubbi su una riforma del settore che, come nel caso specifico di Praia Mare, ha dismesso un ospedale e lo ha trasformato in un CAPT tre mesi prima che ne venisse verificata la reale fattibilità. Altri dubbi derivano dal fatto che la data del decreto, il 18 giugno, lascia appena 12 giorni al direttore generale dell'ASP di Cosenza per effettuare, come scritto nel documento, una ricognizione strutturale del presidio ex ospedaliero di Praia Mare, proponendo entro il 30 giugno 2012 un apposito studio di fattibilità che evidenzia anche costi e benefici in ordine alla trasformazione dello stesso presidio in centro di assistenza primaria territoriale con attivazione al suo interno della Casa della Salute. Il decreto del commissario alla Sanità Calabrese chiede inoltre all'advisor di stimare benefici economici derivanti dalla chiusura dell'ospedale di Praia Mare in termini di riduzione dei costi. Resta da capire se in questa stima saranno calcolati anche i mancati guadagni a causa della migrazione sanitaria verso altre regioni. È venuto il momento di combattere la sfiducia e la rassegnazione. Con questa festa della CGL di Cosenza è nostra intenzione raccogliere forze e idee. È l'appello di Giovanni Donato, segretario generale della CGL Cosentina, che ha inaugurato l'edizione 2012 ieri della festa di libertà organizzata insieme all'ospedale CGL di Cosenza e all'Auser. Abbiamo voluto dedicare questa festa al mondo del volontariato e ai diritti sociali perché siamo convinti che soprattutto in un periodo di profonda crisi come questa bisogna ridare voce agli ultimi, ai lavoratori in difficoltà, ai pensionati, ai disoccupati, ai precari, ma anche ai giovani che non riescono a costruirsi un futuro, aggiunto Donato. All'incontro ha partecipato anche il presidente della provincia di Cosenza. Questa festa è un'iniziativa di grande valore. Il volontariato, ha affermato Mario Oliverio, nel nostro territorio svolge un ruolo molto importante che la provincia sostiene quotidianamente. E ora andiamo a Diamante, dove i lavori per ridisegnare l'ingresso del paese hanno prodotto un acceso dibattito sulla viabilità interna. Vediamo il servizio. Lavori pubblici a Diamante è qualche disagio alla viabilità inevitabile. La città dei Morales è pronta a trasformare quella che è sempre stata l'isola pedonale estiva in una vera e propria piazza. Certo cambierà denominazione da piazza 11 febbraio a piazza immacolata, ma finalmente, con buona pace di chi ha provato e proverà a far cambiare idea al palazzo, assolverà le funzioni del vero cuore del paese e non di una mera strada d'accesso. Intanto, per chi sceglie di arrivare a Diamante dalla strada che costeggia il mare, non resta che il passaggio pedonale oppure un tortuoso giro in macchina. L'altro accesso al centro del paese passerebbe per via Teresa Benvenuto, già via 4 novembre, oggi chiusa al traffico, con eccezione per i residenti. Chi vuole quindi sbucare sul lungomare per poi allungarsi a piedi verso il centro deve proseguire fino a piazza Voitila e oltre. Ma il vero problema resta via Benvenuto. Pare infatti, come documentano le nostre immagini, che la strada sia parecchio trafficata a dispetto del divieto. Tra i commercianti delle due vie interessate dal divieto, però, non c'è concordanza di visioni sul provvedimento. C'è chi accetta la chiusura, ma si lamenta del traffico, che continua a essere troppo intenso, e chi invece proprio non è d'accordo. Se si chiude una strada principale, la logica conseguenza sarebbe aprirne una secondaria e non chiuderne una che era aperta, dice qualcuno. Certo, accontentare tutti non è mai semplice, e soprattutto per le operazioni di carico e scarico merci la questione è piuttosto delicata ed è al vaglio di amministrazioni e uffici. Intanto i lavori proseguono e, anche se con un po' di ritardo, dovrebbero offrire un nuovo look del Paese ai vacanzieri di luglio e agosto, ai quali consigliamo, a scanso di equivoci, di preferire una passeggiata all'uso dell'auto. Gli assessori regionali alla formazione e al lavoro e alle attività produttive della regione basilicata, Vincenzo Ovitia e Marcello Pittella, hanno incontrato ieri il sottosegretario allo sviluppo economico, Claudio De Vincenti. Nel corso dell'incontro è stata operata una puntuale ricognizione delle tappe dell'accordo di programma per l'area industriale della Murgia, sottoscritto nel 2003 e sempre nell'occasione sono state portate all'attenzione del Ministero anche le questioni riguardanti l'Enea di Rotondella, la Firema di Tito e le realtà dei lavoratori ex Mister Day. Nel vertice romano si è dunque raggiunta l'intesa di convocare a Roma, sempre presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il prossimo 13 luglio un nuovo incontro tra il Governo e i vertici istituzionali per riavviare il confronto per il rilancio produttivo e occupazionale dell'area. Torniamo ora a Praia Mare, ieri si è tenuta la presentazione del Movimento Futuro Sud, Presidente Protempo Regino Domenico Spolito, una realtà che lotterà per i diritti di un popolo ad oggi fin troppo calpestati. Vediamo il servizio. Un movimento che nasce per dare risposte al territorio e trae la propria forza dalla voglia di riscatto del popolo meridionale. Tutto questo è Futuro Sud, lavoro, salute e lotta d'equitalia sociale, queste le linee programmatiche del Movimento. Il Presidente Gino Domenico Spolito ieri pomeriggio a Praia Mare nel corso della conferenza stampa di presentazione ne ha descritto le origini e tracciato i prossimi impegni. Noi partiamo da Praia Mare, un piccolo paese in provincia di Cosenza, ma abbiamo la nostra concezione politica di essere nazionali. Parteciperemo direttamente con il nostro simbolo, parteciperemo già alle prossime elezioni politiche. Un sodalizio che si rafforzerà con accordi programmatici con altre realtà sociopolitiche. La settimana prossima andremo a concludere a Roma degli accordi con Consial che è un sindacato confederale minore. Probabilmente chiuderemo anche l'accordo con l'onorevole Gasberrini della Feder Casalinghe e con anche una piccola entità politica presente nel Parlamento, ma soprattutto presente nelle regioni Sicilia, Campania, Puglia e Calabria con vari consigli regionali, provinciali e anche deputati che sono i cristiani riformisti. Quanto al proliferare di movimenti e partiti che guardano alla rinascita del Sud. Abbiamo delle idee un po' diverse dagli altri che ci sono. Noi siamo un partito nazionale per i meridionali. I meridionali stanno bene anche a Torino, stanno bene a Milano, stanno bene a Venezia, stanno bene a New York, stanno bene a Parigi, stanno bene dovunque vanno. Siamo gente, gli italiani soprattutto, ma i meridionali ancora di più siamo gente che dove andiamo costruiamo, dove andiamo facciamo cultura, dove andiamo facciamo politica. La cooperativa sociale Mondo Cultura Atena apre la stagione estiva con un primo evento al Museo d'Arte Contemporanea di Praia Mare con la mostra Il Corso Intangibile del Tempo. Opere, si legge nella nota stampa della cooperativa, che illustrano il percorso creativo e compositivo dell'ultima produzione dell'artista molisana Luciana Picchiello. La responsabile del museo Antonia Palladino entra nel tema particolare della mostra Il Tempo. Fugace e intenso, il tempo si mostra per l'artista nel bianco e nero di una foto, che non è più foto ma ricordo. L'artista, dice Antonia Palladino, consapevole di questo gioco bizzarro, lo raccoglie imprigionandolo in una scatola, fra le sfumature di uno sguardo. L'inaugurazione della personale, si legge nella nota stampa, si terrà domenica 24 giugno alle ore 18.30 con una performance video e l'esposizione proseguirà fino al 24 di luglio. Andiamo ad Orso Marso perché l'associazione sportiva azzera tutte le cariche dirigenziali, invitando i cittadini alla riunione del prossimo 24 giugno, a renderlo noto i vertici della società calcistica attraverso un comunicato stampa. Lo storico risultato raggiunto con la promozione in prima categoria e la crescente dimostrazione di vicinanza alla nostra associazione sportiva, scrivono dal Sodalizio Sportivo, ci possono far parlare di un doppio risultato che appartiene a tutto il Paese. Questi due aspetti, sportivo e sociale, aggiungono poi da Orso Marso, rappresentano un piccolo ma importante patrimonio. Quello che fino ad oggi siamo riusciti a fare è stato possibile anche grazie ai provvidenziali aiuti che ci hanno supportati. Infine l'invito alla cittadinanza per sviluppare le basi fin qui poste, per affrontare i futuri impegni. A partire dalla partecipazione al campionato di prima categoria è necessaria una rifondazione dell'associazione, un nuovo e più consistente aspetto societario, una sostanziale ripartenza. Affinché questa prospettiva sia libera da qualsiasi vincolo, concludono dunque gli sportivi, abbiamo azzerato tutti gli attuali incarichi dirigenziali. E ora parliamo dell'estate 2012, all'insegna delle regole a Tortora, diffuse quelle da osservare nelle spiagge libere attrezzate. Vediamo il servizio. Estate 2012 a Tortora, ecco le regole per la balneazione in ossequio alle leggi che hanno trasferito ai comuni italiani le competenze di regolamentare le attività sulle concessioni demaniali per finalità turistiche. Ecco che dunque l'ordinanza del settore tecnico-urbanistica dispone innanzitutto la garanzia dei servizi offerti dagli stabilimenti balneari fino al 30 settembre. Il regolamento poi per le spiagge libere, tema sempre delicato, interdice la fascia di 5 metri della battigia, fondamentale per le eventuali operazioni di soccorso e inoltre vieta l'abbandono dopo il tramonto di tutto il necessario alle famiglie per la giornata di mare, come ombrelloni, sdraio, giochi e altro. Tra gli altri divieti, transito di veicoli, gli animali, fatta eccezione per caniguida, per ciechi o da salvataggio, il commercio e la pubblicità. No anche a musica ad alto volume, fuochi d'artificio e soprattutto all'abbandono di rifiuti. Poi le regole per le spiagge attrezzate. I lidi aprono alle 8 e chiudono alle 20, salvo richiesta di autorizzazione, ad esempio per feste e concerti, per protrarre l'apertura, ma non oltre la mezzanotte. Oltre alle norme di sicurezza disposte dall'autorità marittima, i concessionari sono tenuti ad osservare altri obblighi, come rendere visibili ad almeno in due lingue i prezzi praticati per i servizi offerti. Inoltre le concessioni devono essere dotate di percorsi che consentano il libero accesso alla spiaggia alle persone diversamente abili. Infine capitolo rifiuti per i lidi. Anche qui l'obbligo è di tenere puliti concessione e specchio d'acqua antistante e soprattutto differenziare i rifiuti. La provincia di Salerno ha destinato 45 mila euro in favore delle associazioni venatorie. L'impegno dimostra l'attenzione dell'amministrazione provinciale nei confronti dei cacciatori dell'intero territorio. A dichiararlo è l'assessore alla caccia Amelia Viterale. Il contributo, continua all'assessore, sarà distribuito per il 40% come quota fissa a tutte le associazioni della provincia e per il 60% in rapporto alla percentuale del numero di iscritti. Allo stesso tempo, sottolinea ancora Viterale, continua l'attività di ascolto sull'intero territorio provinciale per raccogliere le istanze degli operatori del settore. In questa prospettiva si inseriscono e conclude l'assessore la serie di incontri con le squadre della caccia al cinchiale per la definizione delle aree riservate a tale attività. E ora andiamo a Sapri perché giovedì 28 giugno alle ore 21 la Proloco incontrerà la cittadinanza per la presentazione della programmazione estiva, occasione quella promossa dall'associazione per promuovere anche la rassegna Music Policastro Festival. Presente alla conferenza stampa presieduta dal presidente Amalia Bevilacqua, le Proloco della rete Porta del Golfo. Il progetto nato per volontà delle Proloco che, riconoscendo il Golfo di Policastro come area omogenea territoriale, propongono una rete di informazione turistica capillare in tutto il territorio. Sei le Proloco calabresi coinvolte, quattro della Basilicata e ben nove della Campania. Location dell'incontro, i giardini della villa comunale. E ora un'occhiata agli avvenimenti previsti a questa giornata. A Cosenza, giornata conclusiva della festa di libertà, partecipano Mario Chiuto, Mario Oliverio e il segretario generale della CGL Michele Gravano. In serata a Piazza Kennedy, concerto dei Modena City Ramblers, ore 18.30. E a Verbicaro si terrà al convegno i riti del fuoco nella tradizione popolare di Verbicaro. Tra i relatori Giambattisti Malomo, presidente dei Lions Club Alto Tirreno, ore 18.30. Al centro di educazione ambientale Peppino Impastato. Era davvero tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito. L'informazione di Rete3 News ritornerà questa sera alle 19.45. Grazie per averci seguito.